Le chiedo subito che sensazione ha provato. Una bellissima sensazione, mi sono trovato in una tavola rotonda con personaggi importanti, per me quindi è stata una grande emozione, un privilegio esserci, infatti ho ringraziato subito dell'invito. Bello, bello veramente comunque. Lei ha parlato proprio degli anni bui che si sono registrati a Gela tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. La sua testimonianza è stata molto apprezzata. Può dirci esattamente cosa accadeva in quel periodo? Sì, sì, sì. Io ho parlato proprio degli anni bui dove noi siamo stati colpiti e attaccati da indimidazioni malavitose proprio negli anni 2000 e ho parlato di quello che ci è successo. Il problema che noi abbiamo avuto con il consorzio Conapro, quindi attaccati dalla malavita con disastri molto forti e con l'abbandono anche della nostra società. Ci sono stati periodi quindi critici, periodi di paura, ma abbiamo ripreso tutto dopo aver fatto le denunzie e quindi abbiamo riacquistato la nostra società e quindi dopo tutto è stato facile andare avanti. Abbiamo anche dimostrato che la denunzia è la cosa più importante che si deve fare perché con la denunzia e con l'aiuto quindi delle forze dell'ordine si ritrova il coraggio, la dignità che si è perso durante le azioni malavitose. Lei in quel periodo poteva anche scappare da Gela, non l'ha fatto perché ha sempre creduto nella città. Ero molto impaurito perché ci vuole tanto coraggio e all'inizio comunque il coraggio non si trova. Ho anche parlato, noi abbiamo formato, sono comunque nel direttivo dell'associazione Antirac e Tagela che secondo me è una delle migliori associazioni che ci sia in Italia e ho parlato che l'unione fra imprenditori, fra commercianti dimostra che si può vincere perché stare tutti assieme si trova il coraggio di reagire. Parlare fra di noi ci dà il coraggio di poter denunziare e quindi eliminare chi ci vuole fare del male. E da allora ad oggi tutto è cambiato? Sì, sì, è cambiato tantissimo. Io proprio ieri ho ringraziato il ministro Giuliano Poletti perché anche lui è stato testimone del nostro cambiamento. Lui è stato nel 2010, partecipe all'inaugurazione del nostro impianto di Cassio Estruzzo, l'impianto della legalità che a oggi comunque ci sta dando tante soddisfazioni perché è il primo impianto a Gela, ma non solo a Gela, ma in tutto il territorio comunque nei dintorni. E quindi l'ho ringraziato pubblicamente per la sua venuta perché questo ha dato proprio un aiuto forte, una testimonianza che si può sempre fare di più.